Track di grandi dimensioni come il Mercedes-Benz Actros 7 possono avere difficoltà di manovra nel traffico urbano ed è facile non accorgersi di pedoni e ciclisti. Siccome un semplice segnale non è sempre sufficiente, in caso di emergenza, il Sidegar Assist di seconda generazione offre un'ulteriore miglioria in termini di sicurezza, diventando Active Sidegar Assist. Il sistema è in grado di rilevare situazioni pericolose, riconoscere la necessità di intervento in base all'angolo di sterzata e se il conducente non interviene in tempo, attivare automaticamente i freni per arrestare il veicolo a velocità di svolta fino a 20 km orari. In questo modo si possono teoricamente prevenire potenziali collisioni ed evitare incidenti.